Da Pesaro a Vallefoglia grandi investimenti in impianti sportivi. Gradara uccise la moglie, domiciliari a vita per Cangini. Fanos, Ser Filippi lancia la sua candidatura a sindaco per il centrodestra. Prezzo e qualità al mercato si sfida la grande distribuzione. Tracce di acquedotto romano dimenticate nel quartiere pesarese di Monte Granaro. Buona serata, ben ritrovati amici al nostro telegiornale. Oggi è giovedì 22 febbraio e apriamo questa edizione occupandoci di impianti sportivi. Aspettando il centro federale di basket, Pesaro ha aggiunto ieri infatti un importante tassello alle grandi manovre sulla cittadella dello sport che si sta realizzando nel quartiere di Villa San Martino, inaugurando il rigenerato campo da calcio del quartiere. Pensa in grande però anche Vallefoglia che dopo le migrazioni della Megabox a Urbino prima e a Pesaro ora punta a portare le partite di serie A di pallavolo a Montecchio grazie ad un importante ampliamento del pala Dionigi. Allora apriamo con questi due servizi. Nuova vita per il campo da calcio di Villa San Martino. Ieri pomeriggio il taglio del nastro al terreno di gioco completamente rigenerato in sintetico con un intervento da 900 mila euro. Il primo di vari traguardi in cantiere nella cosiddetta cittadella dello sport che fra calcio, basket, nuoto e pentaton si sta costruendo nell'area compresa fra via Togliatti e via Paganini. Oggi è un grande giorno per la comunità sportiva di Villa San Martino, una bella realtà che conta 400 tesserati e è una realtà che crede molto nel settore giovanile, quelli che sono i valori dello sport. Abbiamo restituito un campo che non ne aveva più e quindi l'augurio è che tante generazioni, queste, quelle del futuro, possano continuare a divertirsi e a vivere in modo sano quelli che sono i valori dello sport. È un campo che aveva un sacco di problemi, l'abbiamo rifatto da capo con un sintetico di ultima generazione esattamente come per lo stadio Benelli. In più la società si sta adoperando per sistemare gli spogliatoi e quindi anche un bellissimo gioco di squadra. Siamo molto contenti, l'ennesimo investimento che facciamo nello sport pesarese, nei campi da calcio. Abbiamo ottenuto anche un bel finanziamento dal Ministero per il nuovo campo del Vismara colpito dall'alluvione e al tempo stesso in questa zona si sta completando il campus sportivo perché abbiamo questa zona dove si gioca calcio con una società storica come il Villa San Martino che fa un servizio sportivo e sociale straordinario. Poi di fianco alla piscina si sta costruendo la nuova palestra del Centro federale della Palacanestro e poi il vicino Camposcuola, il Parco Miralfiore, tutta un'area lungo il fiume che diventa un piccolo campus sportivo a disposizione della città e a disposizione degli eventi sportivi che vogliamo sempre più ospitare. Dopo aver inaugurato Depuratore, Nuova Piazza, Nuovo Municipio e Teatro di Bottega nell'arco degli ultimi 12 mesi, il Comune di Vallefoglia accelera anche sull'impiantistica sportiva presentando oggi il progetto di ampliamento e ristrutturazione del pala Dionigi di Montecchio. Progetto ambizioso che porterà la Megabox Vallefoglia a tornare a casa giocando la massima serie di pallavolo a Montecchio dopo le migrazioni ad Urbino Prima e a Pesaro Ora. Un progetto che è stato stilato dallo studio Vescovi Pazzaglini che ha già individuato le ditte incaricate per un intervento sulla copertura che alzerà il pala sport da 7 a 10 metri e lo amplierà da 1000 a 1500 posti. Noi abbiamo avuto, abbiamo concorso con un altro comune della nostra provincia ai fondi sulla rigenerazione urbana grazie a Megabox che è andato in serie A quindi ci ha inorgoglito un po' dei Vallefoglia nel panorama nazionale e poi abbiamo avuto un finanziamento di 2 milioni e mezzo, un milione e sei l'abbiamo destinato a portare l'impianto a 10 metri sostituendo il tetto in ferro con un tetto in legno migliorando anche l'acustica e poi abbiamo messo da l'avanzo dell'amministrazione 2022 3 milioni d'avanzo 800 mila euro quindi portando 2 milioni e 4 per fare l'impianto che consenta di essere alto 10 metri e 1500 posti per fare i campionati italiani e i campionati europei ed è una struttura che è al servizio anche di tutti gli altri comuni confinanti perché non c'è un impianto di questa dimensione se non a pesaro. Si fa tutto questo per il territorio non è che si fa per ambizione personale o quant'altro riportare la squadra a Vallefoglia è la cosa più importante che in questo momento possa ipotizzare se pensiamo che in questa stagione sportiva abbiamo avuto 5 dirette Rai e una Sky è motivo di orgoglio penso che comunque sia una cassa acustica per il territorio per il comune di Vallefoglia importante quindi poter giocare a Vallefoglia è quello che mi auguro che avvenga con celerità. Progettista di lavoro è l'ingegner Cristian Vescovi rappresentato in conferenza stampa da Carlo Andrea Vescovi che ha illustrato l'intervento di ingegneria strutturale che interverrà sostituendo dall'esterno la copertura attuale dell'edificio con una nuova edificazione in cemento armato in travi legno lamellare che sosterranno la nuova copertura. Ha un ampliamento di un innalzamento di 3 metri quindi dagli attuali 7 metri si passa ai 10 metri e la capienza abbiamo un aumento di 500 posti quindi ci sarà una retifica delle attuali strutture che ospitano il pubblico e più un aumento di volumetria che verrà destinato appunto a un nuovo impalcato per il pubblico. Dunque il progetto c'è ora bisognerà snellire la burocrazia per iniziare un cantiere che se avviato in tempi celeri potrebbe ottimisticamente vedere il traguardo a metà 2025. Abbiamo l'impresa, la giudicazione con prevedo le norme provvisoria però sarà fatta quanto prima l'affidamento definitivo e con un cronoprogramma molto rigido. Ringraziamo tutti quelli che ci daranno una mano a fare bene e presto. Ed ora cambiamo argomento, arresti domiciliari a vita dopo la condanna per omicidio della moglie rappresenta un caso unico nelle Marche, la misura cautelare inflitta ieri a Vito Cangini che nel maggio 2022 è stato condannato a 24 anni di reclusione per l'omicidio della moglie ucraina Natalia Chirikok. La 61enne fu uccisa coltellata nella loro casa di Fanano di Gradara la notte fra Natale e Santo Stefano del 2021. È stata dunque accolta l'istanza presentata dagli avvocati che reputavano le condizioni anagrafiche di salute dell'83enne Cangini incompatibili con la reclusione in carcere. L'uomo è stato condannato agli arresti domiciliari fino al 2045. Ed ora passiamo alla politica. Grandi manovre a Fano dove ieri vi abbiamo mostrato il programma delle primarie di centro-sinistra per scegliere il candidato sindaco. Candidato che invece ha già scelto il centro-destra, si tratta dell'attuale consigliere regionale della Lega, Luca Serfilippi, che oggi ha presentato il suo programma alla presenza tra gli altri del governatore Acquaroli. All'indomani di un centro-sinistra che ha presentato il suo piano di elezioni primare e ad una settimana dalla candidatura di Marchegiani con i progressisti, la città di Fano ha ufficializzato oggi il suo secondo candidato a sindaco. La coalizione di centro-destra si compatta infatti attorno al nome di Luca Serfilippi, attuale consigliere regionale della Lega, che oggi al Botanica ha presentato le sue linee d'azione. Oggi parte un percorso di ascolto, oltre alla mia presentazione da qui a un mese ascolteremo tutte le categorie, tutte le associazioni della nostra città, ascolteremo i quartieri che purtroppo sono stati per troppo tempo dimenticati. Credo che la cosa più importante oggi sia l'unità del centro-destra, il centro-destra quando è unito vince, la coalizione l'abbiamo voluta chiamare Perfano, Perfano è rappresentata in questo momento da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Udc e Civici Marche, ma sono sicuro che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane altre forze civiche si aggiungeranno alla coalizione Perfano. Perfano è anche il motivo che mi ha spinto a candidarmi, è sicuramente un grande enura ma è anche una grande responsabilità. Non mi piace parlare male degli altri, quindi l'impostazione che voglio dare per questa campagna elettorale è di parlare ai fanesi e dirgli quello che vogliamo fare per la nostra città. Oggi abbiamo lanciato 5 temi, la sicurezza, quindi noi vogliamo una Fano più sicura, più inclusiva, più vivibile, più bella e più inclusiva. È chiaro che le cose da fare saranno tante, però prima di presentare il programma elettorale, nonostante noi conosciamo e anche io conosco bene la nostra città, noi vogliamo ascoltare il pensiero dei fanesi. Fanesi che purtroppo a nostro avviso sono stati dimenticati e poco ascoltati, vediamo i lavori che sono stati fatti non condivisi con nessuno, ecco l'altro tema importante è la condivisione e la partecipazione dei cittadini. Ci tengo a dire che io sono abituato quando mi impegno in una cosa a dare il 110%, quindi l'obiettivo mio e di tutta la coalizione di centrodestra unita è quella di vincere le elezioni e governare dal 10 di giugno. I rapporti con Forza Italia sono ottimi, con De Leo io quando lo incontrai dissi che io ero disponibile a supportare tutti i candidati che il centrodestra avesse scelto, è chiaro che il centrodestra ha scelto il mio nome che era quello che univa di più tutta la coalizione sul quale hanno sempre puntato, io non sono il candidato di un partito rispetto ad un altro ma io sono il candidato di tutta la coalizione di centrodestra. Il centrodestra quando è unito vince, io credo che allargheremo, già oggi ci sono i civici Marche, ma allargheremo a tante forme di civismo perché i fanesi ci chiedono un cambio di passo e la priorità mia e della nostra amministrazione sarà cambiare passo su tutti i fronti. Il nome di Ser Filippi circolava da settimane ma è diventata una candidatura dopo consultazione approfondita del centrodestra caldeggiata anche dal governatore Acquaroli. Però è stato di fatto un percorso lineare, dicevo sereno e tranquillo, che porta oggi ad una candidatura unitaria in un clima costruttivo e in un gioco di squadra. Per me era importante l'unità della coalizione, non volevo essere il candidato di un partito rispetto ad un altro ma di tutta la coalizione. Oggi ci sono tutte le condizioni per vincere, dico solamente una cosa, per chi fa politica, per passione ma anche con grinta e entusiasmo, fare il sindaco penso che sia la cosa più bella, anche difficile perché non bisogna nascondersi, però è la cosa più bella che ti possa capitare nella propria vita e io sono pronto per farlo. Dopo il weekend scorso a Fano e quello precedente a Pesaro, la protesta dei trattori si sposta domani a Urbino dove sono annunciati un centinaio di mezzi agricoli che si ritroveranno al parcheggio De Angeli per poi muoversi in corteo attorno alle 10 lungo le strade attorno al centro storico. Il comune di Urbino avvisa la cittadinanza dei presumibili disagi al traffico veicolare autorizzando la manifestazione che per tutto il mese di febbraio ha rivendicato condizioni di dignità dei diritti dei lavoratori della categoria, ignorati dalle vigenti normative europee. E le problematiche di quello che avviene nell'agricoltura si riflette poi anche sul consumatore finale dei prodotti agroalimentari. Fra prezzi e qualità ascoltiamo a tal proposito il parere dei pesaresi che scelgono il mercato per i loro acquisti alimentari. Vediamo il servizio di Teobaldo Bianchini. Qualità e prezzo sono questi i punti di forza del mercato per i cittadini che li spingono a preferirlo rispetto alla grande distribuzione organizzata. In alcuni casi il prezzo è leggermente più alto, in altri addirittura più basso. La costante è data però dalla qualità del prodotto fresco e a chilometro zero. Importante anche il rapporto che si crea tra i clienti e gli ambulanti mentre la GDO vince sulla comodità di aver tutto in un unico luogo. Vengo al mercato perché trovo la roba fresca, buona, prezzi buoni, diciamo buoni, qualche volta non tanto però insomma io guardo la qualità soprattutto. Preferisco il mercato anche se vengo una volta alla settimana però vengo perché vedo la roba più fresca. Se consideri tutto che vieni giù con la macchina e via via tutto sto risparmio non c'è però c'è la roba più bella insomma. Vado al supermercato però frutta e verdura non mi trovo bene. Preferisco... È più fresco qui? Sì, sì. Fresco e poi ecco è un modo anche per uscire. Anche più scelta ovviamente perché i banchi sono molti e quindi poi è roba veramente fresca, la vedi. Poi noi siamo pensionati, il tempo ce l'abbiamo, magari i giovani vanno in un supermercato, trovano tutto dall'ala a zeta però questo mercato rionale fa sempre piacere. Nel supermercato ci sono sempre le offerte però sì, qui c'è fresco, te lo tagliano nel momento e ci troviamo bene. Io soprattutto per la freschezza e la qualità dei prodotti e anche la possibilità di scegliere meglio. Diciamo che il mercato come ha sempre fatto dà la qualità dei prodotti a un prezzo giusto. Quindi noi cerchiamo di promuovere noi ambulanti perlomeno alimentari prodotti locali, prodotti del posto che rispetto a una grande distribuzione fa fatica più a reperire mentre noi ancora riusciamo a andare dai singoli produttori, per noi dei salumi formaggi, da produttori locali, lo stesso anche per la verdura che si rifornisce da contadini locali del posto, gente ancora del posto, avendo un prodotto sicuramente molto più fresco a differenza della grande distribuzione che ha prodotti totalmente diversi. Il mercato è il territorio, parte qualcuno, la maggioranza degli ambulanti che fanno parte del mercato sono persone del posto che promuovono prodotti del territorio. Con i clienti che abbiamo ormai da anni si è creato un rapporto ormai di amicizia, di fiducia quindi la gente ha bisogno di questo contatto umano che in altri posti, tipo supermercati, grandi centri commerciali non trova, non ha. E siamo arrivati allo spazio dedicato alle vostre segnalazioni, vi ricordiamo quindi il nostro numero di WhatsApp 370-366-7210. Oggi ci occupiamo del quartiere di Montegranaro dove tracce dell'antico acquedotto romano versano in uno stato di grave trascuratezza. Vediamo. Un ammasso di sterpaglie accatastate all'angolo della strada. Uno stato di incuria che sarebbe poco edificante in qualunque luogo di Pesaro ma che all'intersezione fra via Michelinitocci e la traversa di Monte Ardizio diventa anche una degradante amnesia sulla memoria storica delle origini romane di Pesaro. Là, in quella salita del quartiere di Montegranaro, sorge infatti la struttura di un deposito di quello che fu snodo cruciale dell'acquedotto romano della città. Un reperto storico integro e documentato che oggi è avvolto dalla ruggine, dagli arbusti e dai rifiuti ma che resiste nella memoria di chi l'ha vissuto in prima persona. Ricordo che da ragazzino si veniva qui in questa zona per fare usare i nostri carriolini di una volta data la strada in discesa e tutte le volte venivamo a bere copiosamente in questa fonte perpetua di acqua dell'acquedotto romano, acqua buonissima e freschissima per quella volta. Dopo decenni ovviamente l'acquedotto è stato chiuso che però, vista considerata la validità di quest'opera romana, mi sono molto esterefatto a vederlo in queste condizioni. Io non dico che chissà cosa fare, però almeno dargli una pulita, una targa dove sta a indicare l'uso che se ne faceva. Da questo possetto veniva attinta l'acqua per la fontana di Piazza del Popolo che fin dopo la guerra, quando i tedeschi hanno distrutto quella fontana, tutti i cittadini andavano a tingere l'acqua in quel luogo e dalla piazza. Quindi aveva una rilevanza, credo. Il giorno dopo l'inaugurazione della biosfera di Pesaro in Piazza del Popolo verrà installata anche la sfera di riceci. Si tratta di un pannello in forex serigrafato di 1,35 m per 2 metri che sarà installato domenica alle 11 all'ingresso di Gallo di Petriano vicino alla fabbrica Fab. L'opera è stata realizzata da Roberto Malini, attivista del gruppo Everyone che si sta battendo contro il progetto di discarica di riceci. La sfera vuole essere un monito alla tutela dei luoghi naturalistici del nostro territorio. Da oggi c'è un nuovo mezzo a supporto del Comune per ridurre gli sprechi alimentari e sostenere le famiglie in difficoltà. È stato infatti consegnato nella sede di Via dei Cacciatori il furgone frigo, assegnato e incomodato gratuito alla Fondazione Banco Alimentare per aumentare i recuperi giornalieri di cibo e la redistribuzione agli enti caritatevoli o alle famiglie indigenti. In attesa di arrivare al 29 febbraio, compleanno di Gioacchino Rossini, prosegue il calendario delle settimane rossiniane, che sabato avranno ben quattro appuntamenti. Si parte alle ore 11 a Casa Rossini, dove giovani talenti internazionali si esibiranno in aree rossiniane, accompagnate dal pianoforte a coda, donato per l'occasione dalla famiglia di Fiorella Lugli, professoressa del Conservatorio, scomparsa nel 2023. Sempre a Casa Rossini, alle 16.30 ci sarà il laboratorio per bambini. Le maschere di Rossini indossa le mozioni. Alle 17.30 invece il Museo Nazionale Rossini propone la visita guidata diffusa alla scoperta della città rossiniana. Alle 18.00 di nuovo tappa a Casa Rossini per assistere al primo dei 39 concerti dal balcone, che si terranno ogni sabato fino a novembre nell'ambito del progetto Playlist Pesaro-Rossini. Un concerto lungo un anno. Si comincia con l'opera Demetrio e Polibio, eseguita da Andrea Nigno e Omar Ceparoli, ex allievi dell'Accademia Rossiniana Alberto Zedda. Vi segnaliamo che invece viene rinviato a data da destinarsi lo spettacolo Venere Nemica di Drusilla Foer. A causa dell'improvvisa indisposizione che ha colpito l'artista, lo spettacolo era previsto al Teatro Rossini di Pesaro da oggi a domenica 25 febbraio. L'AMAT, organizzatore dell'evento, comunicherà successivamente le date in cui verrà recuperato lo spettacolo. Restando in tema di Pesaro Capitale della Cultura, vi illustriamo ora un altro dei tanti progetti in partenza. Si chiama La Natura Vivente della Cultura, il ciclo di 20 appuntamenti organizzato dall'Assessorato alla Sostenibilità. Insieme alla Presidenza della Capitale Italiana della Cultura l'Assessorato alla Sostenibilità è stata molto orgogliosa di poter organizzare un ciclo di eventi dedicato ai quattro elementi naturali intitolato La Natura Vivente della Cultura per porre il focus ovviamente come Assessorato alla Sostenibilità alla crisi climatica e a tutte le politiche che un ente locale come principale attore e protagonista di questa crisi e criticità ambientale generale ritiene appunto che debba essere attenzionato a livello di comunità. E lo abbiamo fatto utilizzando il filo conduttore di scienza e arte. Gli elementi sono quattro, partiamo dal 23 febbraio quindi venerdì pomeriggio da Villa Caprile alle 17.30 e finiremo a fine maggio, appuntamento importante, il 31 maggio scelto anche come dato obbligato perché sarà presente in Italia Vandana Shiva e sarà la nostra principale testimonial per la difesa, per la lotta sempre al cambiamento climatico e a difesa dei diritti umani. Gli elementi faranno un percorso molto particolare perché ogni focus appunto dovrà attenzionare un argomento e in particolare vorrei segnalare nell'ambito dell'elemento acqua proprio la presentazione del libro bianco e del verde come filo conduttore che ci ha portato per esempio ad essere la prima città in Italia a siglare il protocollo d'intesa per il Parco della Salute perché noi vogliamo significare che l'attenzione all'ambiente, al verde, all'intercontensione tra tutto il vivente deve farci comprendere che dobbiamo valorizzare i servizi che nell'ambito degli enti locali noi abbiamo con il nostro patrimonio naturale. Il Parco della Salute avrà questa principale funzione. Lo stesso motivo sarà la base dell'evento dell'elemento fuoco dove sigleremo un patto dei monasteri perché lì vorremmo proprio unire la cura del creato, la visione del creato nell'interconnessione nella focalizzazione della visione biocentrica dell'ambiente appunto con la vita monastica, con la storia dei monasteri e con il loro pensiero legato alla spiritualità. Eccoci arrivati alla fine del nostro telegiornale allora andiamo a vedere la programmazione di Rossini TV intanto vi ricordiamo che questa sera non ci sarà insieme a Canestro per la pausa insomma del campionato ma torneremo con il programma il 29 febbraio in diretta alle 21.20 mentre questa sera vi mostriamo quella che è la realtà di Narconon Alfiere questo centro di recupero per tossicodipendenti che ha sede in tutta Italia e nel mondo ha una sede anche a Pesaro allora questa sera alle 21.20 ve lo raccontiamo e poi domani mattina Daniele Sacchi lo vedete qui, vi aspetta con il consueto appuntamento con la rassegna stampa alle 7.20 e poi per onorare e per ricordare la figura di Ivana Baldassarri vi mostriamo di nuovo questo bellissimo documentario realizzato da Giorgio Ricci della Fedic in cui Ivana Baldassarri racconta il villino Ruggeri questi quattro acquarelli e l'opera di Franco Fiorucci quindi è un momento e una dedica che vogliamo fare a questa donna che da giornalista ha raccontato il nostro territorio per tantissimi anni e poi vi ricordiamo che la prossima settimana inizia questa rubrica che ci accompagnerà per tutto l'anno di Pesaro Capitale della Cultura 2024 una rubrica in cui voi potrete vedere tutti gli appuntamenti e i protagonisti di questo anno da Capitale quindi vi aspettiamo tutti lunedì, mercoledì e venerdì alle 8.10 cioè subito dopo la rassegna stampa alle 13.10 dopo la replica del telegiornale dell'ora di pranzo e alle 20.10 dopo il telegiornale della sera Grazie per essere stati con noi adesso vediamo come sarà il meteo per i prossimi giorni